L'augurio quest'anno non può prescindere dalla situazione che stiamo vivendo e che ci ha toccato anche da vicino come veneziani, cioè la serenità e vincere quelle paure che qualcuno vorrebbe immettere nella nostra vita di tutti i giorni. Una serenità che nasce non dalla sottovalutazione dei problemi e delle questioni ma dalla certezza di poter avere delle risorse spirituali e culturali e il Natale è questa risorsa spirituale e anche culturale perché intende i rapporti a partire dal rapporto che Dio ha voluto avere con l'umanità nel bambino Gesù. Dei rapporti diversi che nascono da un'accoglienza e anche da una responsabilità. Il 2015 è stato un anno segnato da scandali che hanno visto coinvolta la politica veneziana e non solo, da tragedie come la morte di Valeria Solesin durante gli attentati di Parigi, da grandi cambiamenti a partire dal sindaco della città. E proprio in virtù di questi cambiamenti il Patriarca vuole augurare alla città e ai veneziani il recupero di una serenità che è andata perduta. La città di Venezia io auguro che in questo Natale i cittadini, gli abitanti possano ritrovare se stessi. Al fondo del loro cuore possano ritrovare il loro io profondo e il coraggio anche di guardare avanti. Certo per un cristiano il bambino non è solo un bambino ma è anche quel progetto che Dio ha sull'umanità che si è realizzato nella storia di Gesù di Nazareth. Alla città dico che ha una grande vocazione mondiale, che ci possono essere degli spiragli legati anche all'ultima conferenza di Parigi che potrebbero vedere Venezia come centro propulsore di qualcosa che nei prossimi decenni sarà di capitale importanza per la vita dell'uomo sulla terra. E penso non devo candidare io Venezia nulla però potrebbe essere per la sua posizione, per quello che è Venezia e per la sua storia il luogo ideale per poter diventare capace di indirizzare una visione sul rapporto ambiente-sostenibilità della vita decisiva nei prossimi decenni. Secondo Moraglia Venezia sarebbe dunque il luogo più indicato per discutere di cambiamenti climatici proposta accolta con favore dal sindaco Brugnaro. Il patriarca poi ha parlato dell'importanza di essere accanto alle persone in questo momento particolare. La situazione di emergenza alla fine può anche esasperare posizioni e animi. La Chiesa cerca di essere vicino sempre all'uomo concreto e su questo il Papa ci dà delle indicazioni quotidiane. Io penso che accompagnare con serenità e fiducia da parte della Chiesa sia la sua grande sfida proponendo anche delle visioni che obbligano a una certa conversione tra quelle che sono i rapporti tra l'uomo e il modo di gestire la vita. Forse la Chiesa qui deve richiamare molto a un modo diverso di intendere l'uomo in rapporto a quelle che sono le realizzazioni di una certa società che ha posto dei fini che forse non erano poi così rispondenti al bene comune dell'uomo.